Le novità è che siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo e c'è piena disponibilità da tutte le parti e nei prossimi giorni vediamo. Il giocatore è contento? Grazie, siamo tutti contenti quando ci sono queste squadre che si interessano. Quanti anni di contratto? No, presto ancora. Ti ringrazio. Meglio di qui. Grazie mille, ciao ragazzi.